Li hanno portato a casa e gli hanno dato nuova vita 110 cavalli in origine, qualche cosa di più, bandiera verde Tutti in pista con Mattia Cuore 300, prisione e le dita Tutto è pronto, Manuel Boaron ha la manetta a leggere le reliquie, gli orologi sul cruscotto E arriva la pressione E campezza la luce verde E sulla spitta, adesso mettiamo a Matteo Volgato Caricato Lo so che mi ha piaciuto E arriva il suo primo tiro L'applauso Dio spedalezzo Come avete visto, un po' di perdite spiante Un po' di quanto arriviamo Da Ordi Nuovo A nulla vagano le mie parole Vi lascio al sound del motore Genesis Del Ordino Su di giri Andiamo E abbiamo scoppiato l'intercooler Speriamo niente di grave Lo voglio sentire, l'applauso forte Lo voglio sentire E qui siamo andati ben oltre i sei parti sovralimentazione Sovra e Grazie a tutti. 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 5.000 e poco più di cilindrata, 5.900 e 9 circa di cilindrata, preparato da Rino Tiziano e M stava per Marco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ha portato buoni frutti. Luce verde, Romano Mostoni e il suo Starline S3. Grazie a tutti. 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 Sono tavoli. e allora proviamo ancora. Grazie a tutti. 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 La deviazione italiana è stata omanca di lugheese Francesco Varacca. E il suo SPAT. E qui arriva il курso! ma c'è ancora la famiglia ragazzi basta Cristian bravo 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 bravo